Mancano 129 giorni a Natale, è tempo di investire per il regalo. Per esempio, regalare una bella bottiglia di 98 ottani di benzina con quello che costa, questo è un regalo su cui puntare che verrà molto apprezzato. Certo, le cifre record le abbiamo viste, le abbiamo sentite in questi giorni. Siamo arrivati nel famigerato distributore sulla Milano Varese a 2,72 euro. Ogni giorno i prezzi cambiano. Questo è il bello del libero mercato, che nel resto del mondo genera vantaggi per gli utenti. In Italia no. Il ministro Urso ha detto che è la colpa dell'aumento dei prezzi e dell'OPEC, ma che di quei soldi hanno bisogno. Di questo poi ne parleremo dopo. Intanto buongiorno al colonnello Alberto Anastasia del Comando Generale della Guardia di Finanza, che ha lavorato e molto dal primo di agosto a oggi. Abbiamo anche una fotografia che ci illustra di quanti interventi avete fatto. 1.230 e ancora non è finita la partita. Cosa avete scoperto? Buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto il periodo preso in considerazione è quello dal primo di agosto al 15 di agosto. Nei 1.230 interventi innanzitutto si inquadrano in un contesto più ampio, un piano di interventi che è partito a inizio luglio e che riguarda controlli sui distributori della rete stradale e autostradale. Controlli che si inquadrano nell'ambito della missione istituzionale della Guardia di Finanza e che sono stati indirizzati in particolare alla tutela del mercato dei beni e servizi, tutela in particolare del consumatore, del cittadino, per verificare gli obblighi in materia di trasparenza. Allora, parliamoci chiaro, se c'è la benzina a 3 euro al litro non è che voi potete fare sanzioni perché questo è il libero mercato, però magari c'è il distributore dove il contatore continua a girare o magari la benzina non è proprio il massimo e quindi cosa avete scoperto? Certo, proprio così. Quindi noi da un lato abbiamo effettuato, continueremo ad effettuare controlli sulla trasparenza dei prezzi, quindi cartellonistica apposta, comunicazioni al Ministero delle imprese del Made in Italy, ma parallelamente anche controlli che sono finalizzati ad altro. In particolare controlli che sono indirizzati a verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari, ma anche altro, ad esempio, che il prodotto che è stato commercializzato, erogato, corrisponde a quello che è stato pagato, perché abbiamo riscontrato nella nostra esperienza operativa alcuni casi di manomissione delle colonnine. Ci sono molti furbetti oppure no? Ecco, questo è un elemento importante. I dati che abbiamo comunicato non devono essere eletti come espressivi di una diffusa illegalità, ma a mio parere come espressivi della nostra capacità di svolgere analisi di rischio preventiva. Noi abbiamo dei reparti speciali che si occupano proprio di individuare e segnalare ai reparti territoriali i soggetti. Però, insomma, gli automobilisti tendenzialmente possono stare tranquilli sotto questo punto di vista, perché i furbetti sono pochi, questo mi sembra di capire. Mentre delle violazioni che sono state contestate, vediamo che riguardano più o meno tutti quanti la mancata esposizione dei prezzi e l'inosservanza degli obblighi di comunicazione. Questi sono gli obblighi che si riferiscono naturalmente e le violazioni che riguardano gli obblighi di trasparenza. Parallelamente a questo, i nostri controlli, come dicevo prima, riguardano la corretta erogazione del carburante, quindi manomissioni alle colonnine dei distributori. E ancora controlli sulla qualità dei prodotti, perché è capitato nell'esperienza operativa anche di riscontrare prodotto che veniva immesso sul mercato come olio lubrificante, che in realtà altro non era che gasolio e benzina, ma con problemi che poteva causare, per la qualità scarsa, al motore, ma anche di natura ambientale, in ragione delle emissioni nell'atmosfera. Ci mancherebbe altro, poi oggi le automobili sono talmente infarcite di elettronica che qualsiasi anomalia al carburante o a tutte le sostanze che vengono inserite nell'arco dell'auto poi causano, oltre che il fermo dell'auto, grossi danni economici per poi ridissene tutto. Colonello, se altro a dire... Altra considerazione che è opportuno fare è quella relativa alla diffusione di un altro sistema di frode, quindi accanto a tutto questo, quindi a obblighi sulla trasparenza, anche controlli per esempio relativi a carburante destinato ad uso agevolato che invece veniva destinato a uso non agevolato. Il carburante e il gasolio a uso agricolo che fanno i furbetti perché costa 1,2 credo, o qualcosa del genere, contro 1,8 o 1,90 a seconda di dove lo prendi. Il riferimento era proprio a questo. E questa si chiama evasione e non si fa. Grazie al colonnello Alberto Anastasia, buon lavoro a tutti quanti voi amici delle fiamme gialle. E adesso, la mattina uno apre la finestra, cioè che tempo fa, qual è la temperatura e poi soprattutto incomincia a controllare il prezzo della benzina. Guardiamo un po' i prezzi e un'Europa della nostra benzina. In Italia sta 1.939 e il gasolio 1.796. Possiamo dire con orgoglio che sono le più care d'Europa. E tra l'altro 1,61 euro è la pressione fiscale sulla benzina e 0,960-0,70 errotti sul gasolio. Buongiorno a Corrado Chiominto, del Lanza, capo dell'economia del Lanza, ed Emilio Deleidi di Quattro Ruote. Buongiorno Deleidi. Buongiorno a voi. Quattro Ruote in collegamento da Milano. Il ministro Urso ha detto che la colpa dei rincari è dell'OPEC e quei soldi servono. Come la mettiamo Deleidi? 33-34 miliardi di entrate fiscali dello Stato in un anno che derivano solo dai carburanti. Nessuno può pensare in questo momento di fare delle manovre che portino a tagliare questi fondi nel momento in cui si sta cercando di reperirne di ulteriori per sostenere altri settori dell'economia e delle famiglie italiane che sono evidentemente in difficoltà. Quindi da questo punto di vista io temo che non ci sia molto da fare. Il contributo fiscale dell'automobile, che non riguarda solo, lo sappiamo benissimo, i carburanti, le accise e l'IVA che si paga paradossalmente anche sulle accise è un gettito enorme che riguarda l'IVA su veicoli, che riguarda l'IVA sulla manutenzione, su tutto quanto. Quindi è un settore che dà un contributo di entrate fiscali gigantesco. Più ci si muove, più le entrate fiscali aumentano e effettivamente in queste ultime settimane si è visto, si è parlato di 2 miliardi di incremento di entrate fiscali dovuti al fatto che l'IVA percentuale è legata al prezzo del carburante, più è caro il carburante, più si paga di IVA. Quindi questo è un circolo vizioso dal quale è molto difficile riuscire. Da che storia è storia? Comunque gli automobilisti sono stati sempre, come dire, privilegiati quando c'era da prendere dei soldi e quattro ruote con il vostro editore storico Mazzocchi. Vostro direttore, editore storico, faceva sempre delle battaglie in questo senso. Parliamo della Cise Chiominto. Perché non si riesce a eliminarle e quanto pesano? Perché, come diceva il collega di quattro ruote, danno molto gettito e il governo fa delle scelte e vorrebbe finalizzare le risorse che ha per ridurre il taglio del cuneo, che è la differenza tra il loro del netto e il salario. Quindi questa è la ragione principale. E poi effettivamente è impossibile rimanere fermi, perché il mondo ci costringe a muoverci e quindi dobbiamo mettere benzina e quindi è il modo più facile per fare cassa. Ma questo dall'inizio, cioè le prime accise sono state messe per la guerra in Etiopia e poi sono aumentate man mano il Vajonte, il terremoto in Irpinia. A un certo punto c'è stato un aumento dovuto all'incremento per il contratto dei ferrotrambieri. Quindi la storia delle accise è decisamente affastellata di piccoli aumenti. Una domanda per entrambe. In tutto il mondo il libero mercato comporta vantaggi per gli utenti. Qui in Italia sembra, dicono alcuni, che non sia così. Lo è stato al tempo delle assicurazioni, lo è stato con le bollette dell'energia elettrica e lo è con la benzina. Perché? Allora, il mercato dà sempre vantaggi. Bisogna dire che ci sono dei settori che sono un po' più tutelati. Quanti sono le società che distribuiscono il petrolio in Italia? Non sono così tante. Ed è chiaro che la concorrenza è un po' più limitata. E quindi questo si scarica un pochettino. E poi soprattutto c'è lo Stato che veramente sul settore dell'auto preleva tantissimo. Tanto è vero che abbiamo visto prima nel cartello che in Spagna, che è una nostra concorrente su tanti mercati, quell'agricolo, ha un costo della benzina molto più basso. Allora, poca concorrenza. Qualcuno, non noi, potrebbe ipotizzare. Fanno cartello? De Leidi? Ma guarda, intanto vorrei ricordare che noi abbiamo sempre sostenuto, ma noi dico non quattro ruote, ma in generale, si è sempre sostenuta la necessità di una liberalizzazione dei prezzi. Qualcuno che ha i capelli grigi come me si ricorderà che una volta i prezzi erano imposti, amministrati dallo Stato. A un certo punto si è detto, no, no, facciamo libera concorrenza, come si è detto, privatizziamo le autostrade, così non sono nelle mani dello Stato e ci sarà concorrenza tra i vari gestori e operatori. La realtà poi dimostra che l'economia occidentale che si basa sul mercato è soggetta anche a situazioni internazionali. Quindi noi abbiamo avuto esattamente nel 1973, in ottobre quest'anno ricorrerà l'anniversario della prima grande crisi petrolifera, abbiamo avuto un primo shock in cui ci siamo resi conto del fatto che dipendevamo dall'andamento dei mercati internazionali. L'OPEC chiuso i rubinetti e ci furono le famose austerity e le domenica piedi. Oggi i prezzi sono rincarati. Probabilmente in autunno, con la fine della cosiddetta driving season negli Stati Uniti, cioè quando tutti gli americani vanno in giro in macchina perché è estate, la domanda sui mercati mondiali di carburanti, prodotti petroliferi, diminuirà molto di quello che succederà con la Russia. Scusa, Deleidi, per capire, quando smettono gli americani di guidare la benzina a questo punto si abbassa da noi, non ho capito. Si abbassa il costo del petrolio sui mercati mondiali perché c'è meno domanda. A meno che, come è successo nel passato, ci fosse... Ricordate che per qualche mese il gasolio costava più della benzina perché c'era una shortage, una carenza sui mercati mondiali e in particolare nell'area del Mediterraneo di gasolio perché erano state interrotte le forniture della Russia, non c'era una raffinazione adeguata, eccetera, eccetera. Quindi ci sono delle dinamiche che sfuggono al controllo del singolo paese e alle quali anche le petrolifere italiane sono soggette perché non trivellano in Italia e non comprano petrolio in Italia. Emilio, fermiamoci un attimo. Vorrei capire però perché il prezzo della benzina varia di giorno in giorno con differenze consistenti da distributore a distributore per non parlare di quando poi si entra in autostrada, che non è gratis l'autostrada. Prego. Deleidi. Io? Ah, no, pensavo che fosse rivolto al collega. No, no, no. Allora, varia di giorno in giorno perché viene fissato dalle compagnie petrolifere e suggerito ai gestori, attenzione, non può essere imposto perché sennò quel punto sarebbe veramente un cartello e una mancata di concorrenza. Viene suggerito dalle compagnie petrolifere in base all'andamento dei mercati internazionali del petrolio, del plat, delle quotazioni. In autostrada costa di più perché le società petrolifere pagano una royalties alle società concessionarie, cioè quelle che hanno avuto dallo Stato la concessione per incassare i pedaggi e gestire l'autostrada. La paghiamo sul caffè, la paghiamo per il sud e la paghiamo sull'oil. Mi sembra di capire che Deleide abbia nostalgia del CIP, del Comitato Interministeriale Prezzi, di una volta. È la prima repubblica. Chiuminto, torniamo al momento che l'Europa intera sta vivendo, che è un momento di inflazione. Gli interventi della BCE sui tassi servono per abbassarla, ma con la benzina? Come la mettiamo? Allora, la mettiamo che di fatto... Cioè, non la mettiamo la benzina? No, esattamente. Allora, l'inflazione è scesa. Eravamo vicino al 12, siamo ora al 5,9. Insomma, l'inflazione è un po' scesa. È vero che questa nuova fiammata dei prezzi dei trasporti si scaricherà inevitabilmente sulle merci. Noi abbiamo in Italia il nostro sistema di distribuzione è poggiato per oltre 80%, 83% sui trasporti su gomma. Questo significa che oggettivamente va avanti con i carburanti. E quindi è evidente che un rincaro del carburante si scaricherà anche a settembre sui prezzi... sul supermercato, sul cosiddetto carrello della spesa. Questo è inevitabile. Devo dire che ci sono anche altri componenti che magari rallentano, per esempio per quanto riguarda il gas di casa. E quindi un po' si compensano. Anche gli ultimi cali erano dovuti proprio al consumo dei prodotti energetici a casa. Però posso dire una cosa. Cala la benzina e invece al distributore aumenta. Pure quello non si capisce. Forse c'è un effetto molla? No, ci sono delle dinamiche che sono diverse. e chiaramente ci sono dei tempi per essere assorbite. Ecco, però quando fanno comodo da una parte sono più rapidi. Questo è un gioco che viene fatto perché oggettivamente un pochi centesimi per pochi giorni, voglio dire per una compagnia petrolifera, molti, molti soldi. Come diceva Totò, è la somma che fa il totale. The Lady, e poi ci dobbiamo salutare. Si è fatto un gran parlare dell'obbligo del cartello del prezzo medio. Ma non bastava il totem prima con i prezzi esposti? Io francamente me la spieghi questa cosa perché io non l'ho capita proprio. Ma io credo che sia stato fatto per le persone magari meno avvedute, meno accorte, perché ci sono delle app e gli stessi siti delle società autostradali pubblicano i prezzi dei prodotti petroliferi. Quindi con un po' di attenzione, per esempio facendo il pieno prima di entrare in autostrada, magari andando presso gli ipermercati, perché la grande distribuzione non guadagna su prodotti petroliferi, ti attira col prezzo del prodotto petrolifero e spera che poi tu entri nell'impermercato e copri gli altri prodotti sui quali fai margini. Ecco, con un po' di attenzione, l'unico strumento che abbiamo veramente, cari consumatori, è l'autodifesa, la nostra prudenza e intelligenza. E poi magari, lo sapete benissimo, che 10 km all'ora in meno in autostrada significa risparmiare qualche centesimo, qualche litro e qualcosa. Per noi che siamo figli dell'austerity, sì. Per noi che siamo figli dell'austerity. Pochi minuti in più. Ecco. Vabbè, abbiamo capito. Allora, grazie Emilio Deleidi, grazie a Corrado Cominto. Abbiamo fatto il pieno, sì, ma di malcoltento.